I controlli sul Green Pass si sono svolti durante le ultime settimane in modo abbastanza regolare e comunque coordinato insieme alle forze dell'ordine. In occasione della fiera di San Bartolomeo ci sono stati dei controlli mirati anche in accordo su indicazione della Prefettura. La situazione è abbastanza sotto controllo, le verifiche che sono state fatte sono state comunque con riscontri positivi, non abbiamo elevato nessuna sanzione, le persone comunque sono state trovate tutte in possesso del Green Pass, le persone che dovevano esserlo. I controlli continueranno, continueranno comunque nelle prossime settimane, immagino che comunque prossimamente ci saranno confronti anche di nuovo con la Prefettura per coordinarci nelle attività comunque che ci vedranno impegnati per l'autunno e quindi direi comunque di chiedere a tutti attenzione, rispetto delle regole e di munirsi di Green Pass per tutte quelle situazioni per cui comunque è necessario averlo.